Come è riuscito a ottenere questi artisti a livello internazionale? Signori, abbiamo l'arte circense, abbiamo il più grande mangiafuoco di tutti i tempi. Non mi preoccupare, posso rivolgere una domanda? È difficile? No, è facilissimo. A che ora passa qui il treno stasera? Il treno è qui, ma è suonso bene. Ah, bene, grazie. Scusa, arrivederci. Stavamo dicendo, abbiamo il più grande mangiafuoco esistente al mondo, quindi io vi vengo a presentare il più grande mangiafuoco al mondo. No, com'è? No, com'è? Cosa c'è? S'è andato a fuga. Ma quello? No, sotto il palco, l'arretto. E come si è andato a fuga? S'è andato a fuga, i miei aderini, i pasanelli che voleva... Scusate signori, buonasera. Buonasera, andrò. Posso chiedermi una cosa? E ti faccio qua? No, è facile, per un caso poco fa avete incontrato un signore che vi ha chiesto ancora passi il treno qui stasera. Sì. E che ha fatto? Sì. E l'ho perso. Capito? Sì. C'è? L'ho perso. No, azz'apremmo la patola. Mi piace poi? Ripongimi la lanza. Allora ci sta qua. Ti si è fumato molte e tante segreti. No, meglio. Poi ci sta qua. Poi c'è qua. Poi c'è qua. Poi c'è qua. Poi c'è qua. Poi potessi che fai dire la bernaccia. A me lo fai domate. Poi lo cominciamo. Non c'è qua. Non c'è qua. Ma c'è qua il treno? C'è il bernaccio. Allora, lo spettacolo deve andare avanti. Ma l'avate portato all'ospedale quando l'avate mangiato? No, non ti sta sbagliando per niente. Ma sai che è morta l'ambulanza. Allora, abbiamo i più grandi saltatori di tutti i tempi. Questo è tece. Ma che? Sta scruciato. Tutti e duriamo. E allora abbiamo il più grande ammaestratore di pulci. Pulcite che vi... Vabbè. Perché? Abbiate i pigi più rossi. Signori, allora lo spettacolo rimane nazionale. E vi presento con molto affetto. Eleonora Andreani. Improvvisiazione stile Satriani. Buon divertimento.